Oggi ragazzi, tappa straordinaria da solo, senza il socio, perché oggi il socio lavora fino alle 17, direzione solida, sempre lago di Ventina, e intanto per adesso è tutto, vai con l'intro! Allora, che dire, oggi è giornata caldissima, quindi prevedo pesci in totale apatia, e soprattutto pesci difficilmente muovibili dalla loro posizione. Speriamo in qualche bella gattura! Speriamo in qualche bella gattura! Speriamo in qualche bella gattura! Speriamo in qualche bella! Speriamo in qualche bella! Speriamo in qualche bella gattura!